La prova in acqua dei natanti è uno dei punti forti della prima edizione del Boat Show del Lago Maggiore per tutti gli appassionati di nautica da oggi e fino a domenica alla Marina di Verbella a Sesto Calè. Siamo felici di far vedere ai nostri visitatori sicuramente la creme in questo momento delle imbarcazioni per l'utilizzo Lago per cui i principali produttori di gommoni e di imbarcazioni in vetro resino sono presenti da noi, dai gruppi Benetton, Janot, Glastron dagli Stati Uniti, 4Wins dagli Stati Uniti e i principali produttori di motori fuori bordo per cui Yamaha, Mercury, Honda, Suzuki, Everwood, Tohatsu e Selva sono tutti da noi assolutamente con tutte le novità. Scanto all'area in acqua una serie di stand espositivi anche non strettamente legati alla nautica. Sì abbiamo voluto offrire appunto al visitatore anche un'area non nautica, come chiamiamo, dove potranno appunto visitare dalle auto di lusso alle cose, ai dei diamanti, agli elicotteri, alle moto, tra l'altro abbiamo la fortuna di avere BMW moto con 8 moto per effettuare i test drive per cui ecco un'ampia scelta ecco questo assolutamente. Barche dunque per tutte le tasche con e senza patente nautica e poi gioielli dal fascino senza tempo come Ariston e Acquarama. Il Botshow del Lago Maggiore è aperto ancora sabato e domenica dalle 10.30 alle 18.30 e l'ingresso è gratuito.